Ciao, sei la prima ad uscire, com'è andata questo esame? Speriamo bene. Che prova hai fatto? Ho fatto il tema socio-economico, era sulla ricerca della felicità. Qual è la felicità? È stato abbastanza complesso, però spero di averlo sviluppato in modo positivo. Io ho svolto la seconda traccia, che era la tipologia B, ovvero il saggio breve. Io ho svolto la prima traccia, che riguardava il piacere. C'erano diversi fonti, tra cui anche d'annunzio, che avevamo trattato quest'anno, quindi in genere posso dire che sia andata abbastanza bene. Io ho scelto invece la D, che era il tema, e ho scelto la traccia della musica, perché sono il pianoforte e l'ho trovata la più semplice. C'ero indecisa comunque con quella del piacere, ma alla fine ho scelto su quella. Più semplice di quanto ti aspettavi, quindi? Ma non lo so, in realtà mi aspettavo una traccia magari molto semplice, invece erano tutte medio, difficili. Non ce n'era una facilissima, come magari l'anno scorso, quella su Facebook, o l'innamoramento. Ma mediamente secondo le aspettative? No, l'ho trovato anzi molto interessante, in quanto comunque tratto la musica da quando sono piccola. Mi ho sempre interessato, ho cercato di fare qualcosa di bello, di originale. Spero di esserci riuscita. Ma si conosceva qualcosa sulle tracce? Avevate avuto qualche indizio? Assolutamente, perché in internet avevano cominciato a circolare notizie false, per esempio su Pascoli piuttosto che Manzoni, però non c'erano assolutamente. Sì, infatti io non ho ripassato niente di quello di cui parlavano, perché comunque è un po' interno all'otto. Prossima prova? È greco, non sono bravissima, in greco sono un po' preoccupata, però vabbè, devo stare tranquilla e basta. Tu col greco come sei messa? Io sono abbastanza bene, però un po' di tensione, c'è lo stesso. E quella che fa più paura come prova? No, la terza prova. Terza prova, di sicuro. Per esempio fisica, spero esca matematica, cioè che sorteggino matematica, e poi preferisco storia, filosofia. Invece latino e scienze sono abbastanza tranquilla, ma anche inglese, perché sono brava. E i tuoi compagni che sono rimasti dentro ancora, ti sembrano in difficoltà? Non lo so, so che qualcuno ha scelto il tema sul piacere, quindi parlando di dannunzio, e li vedevo un po' in crisi, però secondo me ce la faranno tranquillamente a svilupparlo in modo corretto. Io so che i miei compagni hanno trovato delle tracce, mia mamma ieri mi ha detto che hanno trovato delle tracce, ma sono delle bufale, ma non so nemmeno quali fossero, sinceramente. Ragazze, appena finita la prova scritta, il tema come è andata? Bene. No, dai, sì, bene. Che tracce avete fatto? La ricerca della felicità. Anche tu? No, io tipologia D. Ma ve l'aspettavate? Ordine generale. Ve l'aspettavate più facile o più difficile questo tema? Più facili, cioè non ce li aspettavamo questi, per niente, neanche Levi, non le gazzette. Internet non ce l'ha detto, no. Non erano trappelate informazioni sulle tracce? No, no, non sentavano niente. Per niente. La terza prova probabilmente per noi ci sarà scienze, inglese e latino, perché non ci sono in seconda e in prima prova, e poi o storia, filosofia oppure scienza, matematica.